Lazio-Monza termina 1 a 0 Lazio vince in casa, quindi nello stadio olimpico di Roma colto in Monza e il Monza non riesce a fare neanche un gol rimane infatti a 0 a segnare l'unico gol al secondo tempo giunge questa rete a firma di Luca Romero al 69esimo minuto di gioco bella partita da garantire sicuramente sì la Lazio fa un bel gioco che dirige in modo buonamente meraviglioso tanto che nel secondo tempo arriva questo bel gol infatti proprio nel secondo tempo viene fuori la vinta e il piglio giusto che la Lazio mette in campo attraverso un gioco brillante, piacevole ed efficace questo basta, gli ingredienti bastano per ottenere la vittoria il Monza rimane a 0 purtroppo per lui o per lei che di si voglia il risultato non pone il Monza in una milione in una maniera positiva colpendo dunque la Lazio che gioca in casa in quel di Roma iscrivetevi, commentate ciao da Leandro, il narratore italiano